Equipaggiamento elettrico delle macchine. La norma N60204.1 è adesso a disposizione nella versione 2018, ma è un periodo di sovrapposizione con la precedente versione. Questo a livello europeo. Attenzione che a livello internazionale vale solo la nuova IEC 60204.1. Dobbiamo quindi conoscere le differenze tra le due versioni europee e la differenza tra la versione europea e quella internazionale.